ciao a tutti ecco a voi un nuovo video di nail art in questo video vedete la rizzazione di questa nail art e se vi fa piacere appunto seguite il tutorial stesso come prima cosa abbiamo preso questo colore nuovo di della nuova linea che si chiama peonia lo stendiamo monocolore su tutte le unghie sesure molto sottili che tanto ne daremo due di passate tra una passata e l'altra mettiamo la lampada a catalizzare ora prendiamo quest'altro colore che si chiama fiore di loto lo applichiamo sull'unghia ne mettiamo un po sulla carta stagnola oppure sulla carta da forno e poi con lo spot facciamo dei fiorellini i fiorellini potrebbero essere a metà quindi con tre puntini o interi con cinque basta a voi scegliere se farne a tre cinque se farne più o meno ora prendiamo l'argento glitter che sarà la nostra parte centrale e il glitter serve anche a dar luce all'art stessa oltre appunto che far la parte centrale anche in questo caso potete scegliere ad esempio se mettere uno strass nella parte centrale scegliete assolutamente voi ora facciamo l'effetto mirror per fare l'effetto mirror ci serve il top coat di persistance che senza dispersione e b mirror questo in questo caso silver con il relativo applicatore come funziona dopo aver catalizzato il nostro top coat prendiamo un po di polverina la picchiettiamo sulla superficie cercando bene di farla aderire alla superficie anche pigiando leggermente andando avanti indietro una volta che abbiamo completato tutta la nostra unghia stando bene anche a coprire bene la punta cosa dovete fare prendiamo un pennello a ventaglio e togliamo l'eccesso di polverina che c'è perché ora dobbiamo andare a sigillarla utilizziamo di nuovo il nostro top coat di persistance sigilliamo bene la nostra nell'arte la punta e sigilliamo anche tutte le altre unghie questo è il risultato finale la mia idea spero tanto che vi sia piaciuta fatemi sapere appunto cosa ne pensate del tutorial stesso e al prossimo un grosso bacio a tutte e grazie per l'attenzione ciao